Si scelga una grande conchiglia sulla propria cucina, realizzata in acciaio lucido, si installa ad isola per via delle dimensioni perché è 80 centimetri, una grande lampada che in realtà ha all'interno grande tecnologia, la parte aspirante garantita dall'anello che si crea tra il guscio estetico e la parte sottostante illuminante, realizzata in vetro curvato, proprio per creare di profilo questo effetto luminoso, quasi come se fosse un occhio, un occhio sulla propria cucina. L'accesso ai filtri è garantito da un movimento che si crea muovendo la cappa da sola, sale verso l'alto e dà accesso ai filtri, si può installare a varie altezze, i controlli della cappa sono garantiti da un telecomando dedicato al prodotto, un telecomando realizzato per essere sempre visibile in cucina, proprio perché è disegnato per stare in piedi, non più in orizzontale, in modo tale che è di facile reperibilità e che non può perdersi in cucina. Il prodotto è pensato in tre varianti di colore, questa nuova variante che è l'acciaio lucido a specchio, proprio per dare eleganza al prodotto, per creare questo oggetto che riflette tutto l'ambiente, quasi a perdersi nell'ambiente stesso. Poi la versione bianca, realizzata con un bianco perla, proprio perché la forma del prodotto è come una grande perla all'interno della propria cucina. E' la versione nera che crea questo oggetto misterioso, che dietro all'illuminazione nasconde la sua vera identità, che è quella di un oggetto dedicato all'aspirazione in cucina e alla pulizia dell'aria in cucina.